quali sono le prospettive della piazza comunale alla luce anche dell'articolo che abbiamo pubblicato nell'ultimo numero prima di natale che dove abbiamo anche pubblicato una proposta progettuale di un operatore per recuperare il vecchio edificio di fianco al comune che è un po di anni che i lavori di rifacimento di una parte della piazza che sono terminati a vederli così paiono molto belli a lei è soddisfatto certo partiamo dal discorso che i lavori hanno hanno come dire il principio di recuperare la centralità della storicità di questa piazza comunale e quindi lo abbiamo recuperato l'abbiamo ridisegnata con una nuova pavimentazione con un nuovo arredo urbano e che è sicuramente una restituzione alla fruibilità e alla serenità di tutti i cittadini che ogni sera piuttosto che quando vorranno potranno tranquillamente passeggiare e sedersi tranquillamente all'ombra degli alberi qui della piazza comunale che è la parte storica il centro storico di Pantigliate e quindi va recuperata perché va ridata la centralità la storicità ripeto di questa piazza a tutti i cittadini è una piazza storica dove c'è la basilica e a faccia villa mora che è la villa del comune quindi dove c'è la sede del municipio del comune di Pantigliate quindi si recupera un po' quella che era la funzione storica iniziale certo antica di questa sempre con un'attenzione alle alla fruibilità e ci teniamo a recuperare anche la parte di fronte al vecchio municipio dove andrà inserirsi la nuova farmacia comunale e dove proprio in atto è ancora innesso una convenzione di recupero di tutta quella parte come dire vicino al vecchio municipio che è oggetto di una convenzione che non è ancora decollata ma che da come ho capito da come visto è stata oggetto di uno studio di architetti dove poi anche sette giorni ha ripreso quel progetto che è una proposta una proposta validissima che si deve inserire in una nuova convenzione che sicuramente ha bisogno come dire di essere sostenuta da investitori che quindi dovranno fare la loro parte per sostenere questa progettazione perché no riuscire poi ad avere una nuova convenzione che farà darà sicuramente risato anche alla piazza stessa perché comunque verrà recuperato spazio anche attraverso questa questa presenza questa questa nuova come dire ubicazione urbanizzazione attraverso questa convenzione e ripeto darà sicuramente un recupero anche della piazza stessa il progetto dell'architetto luca bucci prevede anche uno spazio per uno spazio comune dopo del covid è venuta fuori questa necessità di avere degli spazi comuni da vivere c'è uno spazio come chiamo io polifunzionale che potesse che potrà essere destinato a diverse finalità e che quindi imprezioserà anche i servizi quello che è importante è che anche in quella in quella in da quella parte quindi di fronte all'ex municipio verrà come dire in maniera speculare messo più o meno lo stesso progetto che c'è adesso attualmente davanti alla basilica davanti al comune quindi qui diciamo dove c'è il vecchio edificio del comune e lì davanti sarà ancora uno spazio pedonale è un pochettino più avanti ancora venendo poi verso villamora ci sarà comunque uno spazio ancora perché sì perché dobbiamo ripeto rispettare gli standard di parcheggio quindi garantire anche la fruibilità perché ci sono dei servizi commerciali e quindi a maggior giorno poi c'è anche la la farmacia quindi ci devono essere tutti questi servizi come dire accessori per potersi che la viva anche la piazza sarà complementare insomma le attività che verranno svolte il sindaco franco abate che abbiamo scritto sui giorni abbiamo dato noi la notizia prima che si ricandiderà come vede la sua città nel 2029 questa piazza con questo sviluppo la possibilità che il co working sia anche un incubatore di giovani di giovani talenti di giovani imprese la riqualificazione dei campi sportivi la questione palazzetto 2029 per franco abate come sarà allora se quanti gli altri e innanzitutto pantigliate come dico sempre sono cinque chilometri quadrati quindi è un paese ma veramente col paese con la p maiuscola cioè organizzato bene con la sua centralità con i suoi negozi di vicinato coi servizi al centro e quindi garantisce anche una facile fruibilità e una mobilità dolce sostenibile attraverso le reciclabili che stiamo implementando e rispetto soprattutto del dell'ambiente di quello che sono i fontanili le nostre rocce che sono caratteristiche di questo paese e quindi queste devono vivere ma devono essere anche come dire utilizzate devono essere godute dai dalle famiglie dai 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 ragazzi e nel 2019 i cittadini pantigliate avranno la possibilità di tranquillamente camminare e trovarsi a portata di mano ogni servizio che un cittadino ha il diritto di ottenere e di avere e di utilizzare le piazze non ultima appunto la piazza comunale avrà la sua storicità quindi sarà sicuramente percorsa da famiglie dove tranquillamente porteranno i bambini ragazzi ci saranno magari una cartellonistica che spiegherà anche come dire quello che è pantigliato storico e quindi riprenderanno magari angoli per come dire il mulino cioè ci sono tante possibilità di recupero storico culturale per impreziosire questa pantigliate nel 2029 i cittadini che passeranno da via marconi sì dove c'è l'aquapark sì cosa si troveranno sicuramente sicuramente bisogna accelerare una delle soluzioni sulla su quella su quella su quell'area soluzioni che possono passare da un soluzione sociali sanitarie sportive cioè ce ne sono tante lì va fatto una delle scelte importanti e anche coraggiosi come sempre detto non si può ottenere la luna senza però chiaramente scendere a compromessi può essere che quell'area che ormai non è più naturale perché è stata adoperata per una struttura come l'aquapark possa essere in prospettiva una risorsa per le casse comunali qualora ci fossero dei progetti interessanti vanno analizzati i progetti perché in questi anni sono arrivati tanti personaggi tante società che promettevano ma che poi alla fine non hanno non hanno investito o non hanno voluto investire e noi dobbiamo di pari passo essere aggiornati anche in questi in questi periodi e come dire verificare le modalità e le possibilità e quindi decidere perché anche pantiliate ha diritto di avere rinnovato determinate strutture come può essere le palestre come può essere le strade chiudiamo con una con una considerazione in vista della prossima campagna elettorale la sua formazione racconterà ai cittadini di pantiliate una visione di medio termine sulla città che include anche quell'area dell'aquapark sicuramente perché nei nostri programmi ci sono e ci dovranno essere le soluzioni anche e non solo per quanto riguarda l'acquapark grazie sindaco abate la ringraziamo salutiamo tutti i lettori di sette giorni giulio carnevale pantiliate grazie